Benvenuto. Per questa meditazione poniti nella posizione che preferisci e se ti fa piacere chiudi gli occhi. Questa meditazione ti sarà particolarmente utile se in questo momento ti senti stressato dai tuoi impegni, se ci sono questioni che senti l'urgenza di risolvere e se provi ansia e confusione alla sola idea di dover affrontare tali questioni. Ma ti sarà anche utile per alleviare qualsiasi senso di resistenza tu stia provando dentro di te. Ora respira. Lascia che il tuo respiro sia naturale e lascia che diventi via via più calmo, sottile e rilassato mentre ascolti le mie parole. Anche se ora provi ansia e confusione, ti sarà facile capire che il solo ascoltare la mia voce, la musica e respirare tranquillamente è sufficiente per cominciare ad allentare questa tensione. Quando allenti la tensione, quando allievi l'attrito e la resistenza anche solo di poco, la vibrazione che emani comincia a innalzarsi naturalmente, senza bisogno che tu faccia nulla, senza bisogno che tu prenda decisioni. Lo stato naturale della tua vibrazione è uno stato di serenità, gioia e profonda consapevolezza. Se provi ansia e tensione, è solo perché hai posto una resistenza, rallentando il flusso naturale della tua vibrazione. Ma quel flusso naturale non cessa mai di fluire. Ha solo bisogno che tu rilasci piano piano la resistenza. Respira e percepisci ancora come il tuo stato energetico sta cambiando da quando hai iniziato questa meditazione. Tutto ciò che devi fare per risolvere qualsiasi questione nella tua vita è rilassarti e allentare la resistenza. Le azioni fisiche necessarie alla risoluzione materiale delle varie situazioni della tua vita potranno così emanare naturalmente da quello stato vibrazionale privo di resistenza. Ricorda, l'azione ispirata è sempre una conseguenza del tuo stato vibrazionale. Ogni volta che cerchi di agire per risolvere qualcosa, ma non ti prendi cura prima della tua vibrazione e non ti prendi cura di allentare la resistenza dei tuoi pensieri, delle tue emozioni e delle tue sensazioni, allora l'azione sarà sempre faticosa, confusa e lenta nel suo creare soluzioni. Ogni volta che invece ti prendi cura della tua vibrazione prima di tutto e impari a lasciare andare gradualmente la resistenza, l'azione giusta ti sarà ispirata naturalmente e ti risulterà facile, naturale e rapida nel suo creare soluzioni. Respira e percepisci come è facile allentare la resistenza semplicemente, senza sforzo. non c'è alcun lavoro che devi fare per ritrovare il tuo stato naturale di equilibrio e benessere. Devi solo imparare a rilassarti sempre più profondamente. Ogni volta che ti rilassi, la tua mente potrà tentare di riportarti alle questioni della tua vita, cercando di convincerti che rilassarsi è solo una perdita di tempo, che è necessario pensare, agire, sforzarsi per rimettere le cose a posto. E' solo un breve periodo di tempo, ma è già sufficiente per cominciare ad allentare la resistenza. Ascolta come il tuo respiro naturalmente fluisce dentro e fuori di te. Lascia che si faccia più profondo e sempre più rilassato e renditi conto di come è facile allentare ogni tensione semplicemente seguendo il ritmo del respiro e percependo l'aria che fluisce dentro e fuori di te. Immagina ora di trovarti su una spiaggia al crepuscolo. Il mare è calmo, l'aria è tiepida e una leggera brezza accarezza il tuo corpo. Senti la sabbia tiepida sotto i tuoi piedi e la piacevole sensazione delle piante dei tuoi piedi che si distendono e si rilassano sulla sabbia. Il mare, di fronte a te, è rilucente dei colori del crepuscolo arancione, rosso, rosa, azzurro, bianco. Il cielo è attraversato da toni di rosa, arancio, viola e alcune nuvole all'orizzonte riflettono gli ultimi raggi del sole che inondano la spiaggia intorno a te. Ascolta per un momento il ritmo della risacca le onde leggere che vanno e vengono sul bagnasciuga e lascia che il ritmo di quelle onde si sincronizzi naturalmente a quello del tuo respiro. L'aria che entra e esce dai tuoi polmoni è come l'onda che arriva e si ritira. lo stesso ritmo lo stesso ritmo la stessa calma serenità la stessa tiepida naturalezza percepisci come la tua vibrazione si è innalzata nei pochi istanti che hai passato su questa spiaggia come la resistenza si è assottigliata lasciando che il flusso del benessere ti raggiungesse più pienamente ora sei già più vicino al tuo stato naturale di essere uno stato totalmente privo di resistenza se ti dedicherai ad allentare la resistenza anche solo per dieci minuti al giorno proprio come hai fatto oggi in un brevissimo arco di tempo potrai renderti conto di come le cose intorno a te cominciano a cambiare perché ora le percepisci da un punto di vista meno resistente e più vicino a ciò che realmente sei quando finirai questa meditazione potrai notare la resistenza tornare a formarsi gradualmente dentro di te le questioni della tua vita di nuovo farsi presenti e la tua mente richiederti che tu le risolva se questo accade non preoccuparti è normale tutto ciò che devi fare è notare quel processo della resistenza che torna a formarsi e renderti consapevole che è solo un processo e che proprio come stai facendo ora se vuoi puoi cambiarne il corso anche se talvolta è difficile credere che basti allentare la resistenza per risolvere qualsiasi problema crediamo di avere se ti dedicherai un po' di tempo ogni giorno a innalzare la tua vibrazione riceverai la prova tangibile che questo è realmente tutto ciò che è necessario allenta la resistenza e il tuo nuovo stato vibrazionale ti porterà naturalmente verso le soluzioni che cerchi ora respira e percepisci ancora te stesso su questa spiaggia al crepuscolo mentre la tiepida brezza ti accarezza e le onde vanno e vengono seguendo il ritmo del tuo respiro continua a rilassarti e goccia a goccia a lasciare andare la resistenza ad ogni respiro fino al termine della musica grazie 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 grazie